La paventata chiusura per ragioni di sicurezza dell'A24 da parte della Società Strada dei Parchi impone, secondo il Presidente della Provincia di Teramo, Diego di Bonaventura, un'accelerazione del percorso da intraprendere per la messa in sicurezza della falda quifra del Gran Sasso, con un preciso impegno da parte del Governo, così come già richiesto nella nota inviata ai ministeri interessati il 10 gennaio di quest'anno. A questo scopo è stata convocata l'Assemblea dei Sindaci e allargata la partecipazione dei massimi rappresentanti della Regione Abruzzo, delle istituzioni e delle associazioni ambientaliste. Bisogna affrontare una volta per tutte il problema che abbiamo sul Gran Sasso, la famosa messa in sicurezza, che sono 20 anni che se ne parla, 20 anni che qualcosa forse hanno provato a fare, ma i risultati sono quelli che vedete. Ogni volta si arriva con dei problemi, anzi c'è di più, c'è qualcuno pure che minaccia, che è per colpa di altri che ci rimetta di nuovo la provincia di Teramo. Perciò noi dobbiamo scongiurare la chiusura dell'autostrada, garantire la salute pubblica della nostra comunità provinciale di Teramo e delle comunità circostanti. Perciò per risolvere il problema bisogna affrontarlo una volta per tutte. Perciò ho convocato tutti qua in provincia per prendere contezza del problema, perché molti neanche sanno qual è il problema, e da qui si parte con documenti reali e programmatici per risolvere il problema, una volta per tutte. Gli enti stanno cominciando a ragionare su effettivamente e concretamente ciò che c'è da fare. Chiaro, l'accelerazione è stata posta da questo problema di strada dei parchi, che come sempre si è posta come un ulteriore problema e non come un'impresa importante del territorio che parte della soluzione. Abbiamo già detto che ci sembra veramente paradossale che oggi strada dei parchi dica di chiudere quando è perfettamente a conoscenza del problema da tempo, tanto che ne è parte di una progettazione per la messa in sicurezza. Siamo arrivati al punto che ormai gli enti territoriali, regione in primis, dovrebbero ragionare insieme al governo e ai ministeri competenti per uno stanziamento di fondi giusto, cospicuo, sono oltre 170 milioni di euro, e dopodiché ragionare sulla governance, ma prima di tutto ragionare sui fondi che devono essere stanziati e una progettazione più puntuale che deve essere ancora effettivamente realizzata. Per poter gestire più soggetti, per poter gestire più situazioni, per poter gestire interventi che dovranno essere di natura diversa e in tempi e metodologie diverse, è chiaro che ci vuole una regia che sia una regia unica, altrimenti facciamo una gran confusione. In questi anni, è una situazione che ci portiamo dietro da tantissimi anni, e quindi c'è la necessità oggi di mettere un punto fermo e di risolvere una volta per tutte questo problema. Questo è stato l'approccio, questo è lo spirito della delibera con cui si è mossa la giunta regionale, chiedendo al governo un commissario che possa gestire questa fase nel modo che ho detto prima, tenendo presente anche un altro aspetto che dovrà esserci una partecipazione, a differenza del passato, e una trasparenza coinvolgendo i sintaci e i portatori di interesse.